Ma ce la stiamo mettendo, io ce la sto mettendo da tanto tempo, il risultato oggi diciamo è al 50% perché ha avuto la delicatezza la Regione Puglia, l'assessore Curcurato, quantomeno di sentirci telefonicamente. Oggi alle 5.30 ci sarà questa videoconferenza, videochiamata come si suol dire, nella speranza di trovare la soluzione. La nostra richiesta, la mia richiesta, la richiesta di tutti gli inquilini è stato quello di dare una comunicazione all'acquedotto pugliese affinché mettesse, aprisse subito, dessero ordine di aprire immediatamente l'acqua alle centinaia e centinaia di famiglie che hanno arbitrariamente e indiscriminatamente chiuso l'acqua. Addirittura in alcuni complessi hanno smontato il contatore principale per non fornire l'acqua. Sentiremo alle 5.30 cosa dice, noi siamo aperti a trovare ogni e qualsiasi soluzione, ce ne sono varie proposte e anche soluzioni. Bisogna verificare se c'è la volontà politica di trovare la soluzione al problema dell'acqua. Noi ce la stiamo mettendo tutta, ahimè, vedremo se la Regione Puglia sarà dello stesso parere di trovare questa soluzione. Premettiamo che l'acqua è un bene pubblico di importanza primaria, fondamentale, quindi dovrebbe essere garantito a chiunque. Non possiamo immaginare che indiscriminatamente si tagli un servizio a chi regolarmente paga e viceversa fare in modo che chi non paga la fa sempre franca. La Regione Puglia deve attivarsi immediatamente perché tutti possono avere dei contatori di sottrazione. Chi paga deve continuare ad avere il servizio e chi non paga bisogna vedere anche quali sono le condizioni sociali di queste persone perché, ripeto, l'acqua è un bene primario e va garantito a tutti.